Sì, partiamo dal segno dell'Ariete, un segno che sente venire meno in questa giornata. L'energia, la grinta, il coraggio portato da questo Marte nel segno del Sagittario che comunque li ha tenuto compagnia dall'inizio della primavera fino ad oggi. Praticamente perché Marte, proprio in questo giorno, alle ore 15.51, rientra nel segno dello Scorpione. Rientra perché il moto di Marte è un moto retrogrado. Che cosa significa? Solitamente il moto dei pianeti all'interno del cerchio zodiacale è un moto anti-orario. A un certo punto, dalla nostra prospettiva, dalla prospettiva della Terra, del nostro pianeta, Marte, ma così anche gli altri pianeti, sembrano assumere invece un moto orario e quindi sembrano tornare indietro nel cerchio zodiacale. Quello che sta facendo Marte in questo periodo, tornando nel segno dello Scorpione, per voi amici dell'Ariete, non è una buonissima notizia, anche perché rimette in gioco alcuni avversari vostri, che pensavate di aver in qualche modo sconfitto, e che invece tornano a darvi dei problemi. Però c'è una bellissima luna in questa giornata. E allora, questo è l'inizio di un transito di Marte nel segno dello Scorpione, ma per questo giorno non ve ne accorgerete, perché sarete invece di ottimo umore, e questa luna nel segno dell'acquario è una luna fantastica per i rapporti sentimentali.